Ciao amici sportivi e benvenuti qui sul secondo canale. Anche se il campionato di Serie A è ormai iniziato, non è ancora terminato il calciomercato. E qua ho fatto una tripla rima baciata, neanche farlo apposta in realtà, devo dire la verità. Basta continuare a fare rime, che cosa sto facendo? Ok, dicevo, il Parma infatti ha appena acquistato a titolo definitivo Giuseppe Pezzella. Come potrete vedere, immagino dall'articolo che vi ho lasciato qui, di OneFootball. Miglior app in assoluto per quanto riguarda news e notizie sportive, che troverete qui sotto in descrizione da poterla scaricare. Link gratuiti o se però esche per Android, mi raccomando, scaricatela dal link che vi ho lasciato qua, è molto importante ragazzi. Tornando appunto al nuovo acquisto del Parma, a Pezzella. Chi è Pezzella? Pezzella è un terzino sinistro, può fare anche il DSO, in realtà spesso è capitato che venisse spostato, ma prevalentemente un terzino sinistro, che arriva dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto per 4,5 milioni. È praticamente una formula che il Parma ha utilizzato spessissimo in questa campagna acquisti. L'ha utilizzato praticamente con tutti i giocatori che ha preso a titolo definitivo, possiamo dire. E' appunto un modo per poter dilazionare gli eventuali pagamenti. Ha acquistato 2-3 giocatori con i soldi ricavati dai diritti televisivi per quest'anno e poi il resto andrà per i diritti televisivi per l'anno prossimo, ovviamente. Tra l'altro io me lo ricordo benissimo per essere considerato uno delle promesse più incredibili di Football Manager di 3-4 anni fa. Non so se vi ricordate quando giocava a Palermo, era considerato secondo i creatori di Football Manager una promessa incredibile. L'erede di Roberto Carlos all'italiana però. Per cui si parla di questo giocatore da tantissimo tempo e se ne parla un gran bene. Ultimamente negli ultimi anni non è riuscito ad emergere con la prontezza e la qualità che gli si aspettava su di lui. Però sono convinto che possa fare molto bene. Possa fare bene perché è ancora molto giovane, se non sbaglio un 97 o un 98. Adesso non sono andato a controllare bene l'età, però comunque è ancora molto giovane. È considerato un under, se non vado errato. E a noi serviva tantissimo un terzino sinistro. Serviva come il pane perché noi abbiamo ancora Gaiolo che è un difensore centrale di nascita. Proprio lui sa fare il difensore centrale adattato terzino sinistro. E avevamo solamente lui. L'anno scorso c'erano Gobbi e Di Marco. Né uno né l'altro giocavano, non giocava il Gaiolo esterno per farvi capire. Perché né uno né l'altro secondo appunto da Versa era meritevole di giocare da quella zona del campo. Perché, complice alcuni infortuni, complice alcune vicissitudini, alla fine era stato spostato Gaiolo. Aveva fatto molto bene e ok. Ma non si può fare un secondo campionato intero con un terzino adattato. E' meglio, diciamo, provare con Pezzella largo. Tra l'altro adesso si sta parlando anche di un eventualmente di Strinic. Un altro difensore esterno, terzino sinistro, ex Milan ed ex Napoli. Che possa appunto spingere molto di più su quella zona del campo. Abbiamo preso a destra, abbiamo preso Laurini. Laurini, che teoricamente dovrebbe spingere moltissimo. Un terzino vero, non un Giacoponi, che è un altro difensore centrale adattato, terzino, rispetto all'anno scorso. Quindi abbiamo un altro terzino vero e stiamo cercando anche un altro terzino ancora. Quindi il Parma ora sta puntando su quella zona del campo. A prendere due terzini sinistri e due terzini destri. Per ora Laurini e Pezzella ci sono. Si spera entro la fine del calcio mercato di acquistare anche, si parla di Sala a destra e il punto di Strinic come ho detto prima a sinistra. Ma ci sono anche altri nomi che ballano in gioco. Si parla eventualmente anche di un eventuale acquisto di un ennesimo difensore centrale da mettere insieme a Bruno Alves. Perché alla fine abbiamo capito che quella, l'unica parte della squadra che manca effettivamente di qualità. I giocatori ci sono, sì, ma non hanno quella qualità che ci si aspetta, non quella grande esperienza in Serie A. E quindi i giocatori di esperienza, che comunque Pezzella lo ha fatto, giocava, se non sbaglio, ha giocato titolare nelle scorse giornate, nelle scorse amichevoli, diciamo con l'Udinese, se non ricordo se ha giocato titolare nella scorsa partita di Serie A, nel caso ditemelo. Però comunque è un giocatore che le sue partite in Serie A le ha fatte. Stesso discorso vale per Laurini, che le sue partite in Serie A le ha fatte. Insomma, stiamo prendendo giocatori di esperienza che in quella zona del campo servono come il pane, maggiormente dal punto di vista della maturità in Serie A, e per il fatto che possano eventualmente salire molto di più rispetto a quanto facevano due difensori centrali adattati. Sono molto più veloci, sono molto più abituati a fare la fascia di continuo, in un 4-3-3 è importantissimo e, cosa molto importante, hanno dei piedi buoni, almeno si presuppone, per poter fare cross decenti per la testa di Roberto Inglese o Cornelius, nel caso. Fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate di questo nuovo acquisto del Parma, eventualmente nei prossimi giorni, se arriveranno altri giocatori, continueremo con questi video, su cosa ne penso, riferito appunto ai nuovi acquisti del Parma. Io, come capita sempre, muoio di caldo, ma veramente quando c'è caldo non riesco a parlare biascico praticamente, non mi vengono i termini, soffro, sudo ed è ora di chiudere il video. Grazie mille di aver visto questo video, un saluto, ciao da Papyrus e Forza Parma!